Allora ragazzi, qua è Step, mi è bentornati in questo nuovo video sul mio canale è con grande entusiasmo e felicità che finalmente abbiamo raggiunto il milione di iscritti sono veramente entusiasta per questo traguardo, il che significa che adesso dovranno arrivare i relativi speciali quello che vedrete oggi è la canzone registrata da Masarone e da Snitex, trovate i loro canali in descrizione per commemorare questo traguardo spero veramente di cuore che possa piacervi, c'è stato un impegno dietro davvero allucinante quindi spero lo possiate apprezzare e nei prossimi giorni arriveranno anche gli altri ragazzi vi auguro una buona visione attenzione senti ho scritto questa canzon cellulari pc la sentirai non so dove e dopo tu ti scriverai io ti farò di lui innamorare che non indovinerai ma con 88 lo capirai stepney qui canta lo Snitex banana ormai raggiunto un milione selfie di fanti circondi ma papa Vegas non perdon sorri e Sasha ti spaccano il cuore mi sembra proprio vero amor il tuo amore è vero sempre nei tuoi deliri la marina poverina ci fa il challenge in love e dopo tu lo seguirai se è normale poi ti domanderai like e commenti lascerai ti assicuro che ti divertirai stepney ho scritto sto testo con masa perché hai raggiunto un milione non svegli tutti i parenti tua mamma perché ancora non togli i vestiti senza motivo io ancora perché mi chiedo stepney coi me sono amici per sempre io li seguirò scacciavo il sonics factor la tua vita i tuoi amici anche oggi registrerai se si gioca spenderai stepney qui canta lo Snitex banana ormai raggiunto un milione selfie di fanti circondi ma papa Vegas non perdon sorri e Sasha ti spaccano il cuore mi sembra proprio vero amor stepney senza pantaloni aspetto lo step versus food stepney Grazie a tutti.